Prismian Cables & Systems Prismian Cables & Systems nasce formalmente nel 2005, ma la sua storia ha radici ben più antiche. Il gruppo avvia infatti le proprie attività nel 1879 come una società di Pirelli per il ramo cavi e oggi rappresenta un vero e proprio colosso nel settore in cui opera, con oltre 100 anni di esperienza e una presenza mondiale. Il gruppo avvia infatti le proprie attività Sono molto felice di introduire Prismian China che è presente nella Chia durante più di 10 anni ma è finalmente stata installata con una nuova compagno di compagno in Beijing e nuove offizie qui in Beijing. In particolare, la compagno di compagno di China e le attività di business at Prismian in China. Prismian in China è presente con 5 compagnie, due compagnie in Tianjin dedicati all'industrial business e special cables come rolling stock, railways, mining, oil and gas, offshore, anche nucleare. Cave e sistemi terrestri e sottomarini ad alta e altissima tensione per la trasmissione di energia. Cavi industriali per applicazioni nei settori più strategici dall'oil gas e petrochemical ai trasporti fino all'industria mineraria e dagli impianti per energie rinnovabili. Cavi ottici per la trasmissione di voce, video e dati. Sono questi i settori e mercati che Prismian considera strategici. Fra le principali opere realizzate negli ultimi anni Prismian vanta oltre 30 progetti di collegamenti energia sottomarini e la fornitura di cavi di altissima tensione per il rafforzamento delle reti di trasmissione di alcune delle più importanti città del mondo. Specializzata nella realizzazione di prodotti e sistemi progettati sulla base di specifiche esigenze del cliente, i principali punti di forza di Prismian includono focalizzazione su ricerca e sviluppo, oltre 3000 brevetti tra concessi e depositati, capacità di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e l'utilizzo di avanzate tecnologie proprietarie.